ragazzi stavo riflettendo su una roba ma quanto è triste la vita di un giocatore dei yuki cioè ma ci rendemo conto che uno scopa affasse le seghe tutti i giorni tutto il giorno poverino e manco i soldi guadagniamo perché se vincemo il premio di un torneo manco i soldi cioè siamo proprio sfigati almeno quello dei pokemon che ha vinto il mondiale si è portato a casa una roba come 30.000 euro e dici oh non scopa ma c'ha 30.000 euro in tasca noi manco quello che aveva ma detto questo mentre mi ricordo che la mia vita è una merda yuki a tutti i duellanti e ben ritrovati in questo nuovo video dove sostituisco l'amore di una ragazza con delle carte che sicuramente non mi deluderanno e non mi porteranno i soldi anche se comunque non è che questo non mi abbia portato i miei soldi eh si ragazzi è un video lotto si è il solito classico lotto che mi manda caos perché ogni tanto cambia progetti e quindi la nuova vecchia se ne vuole sbarazzare quindi gliela piglio io e mettiamola così diciamo che a questo giro ha inviato della robetta carina e gliel'ho pagata anche abbastanza bene visto che è tutta roba utilizzabile nell'etroforma ma ovviamente prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati dal buon Silvio Berlusconi ragazzi il buon Silvio ha detto che dovete comprare il fantasia store trovate il referral link il codice sconto qua sotto in descrizione perché lui mi supporta però vuole che acquistate tramite il referral link è una cosa incredibile pure dall'aldilà continuo a dire ragazzi comprate tramite il referral link di cappello così lo supportiamo e quindi può continuare a fare contenuti e sotto sotto c'è scritto anche se comprate la jack store la roba coreana referral link è il codice sconto e non ve ne dimenticate perché altrimenti qua non si fattura se lo dice il buon Silvio bisogna dargli retta perché sulla fattura e sulla figa bisogna dargli retta considerando un canale di carte solo sul fatturato quindi soldi e figurine mettiamo una cosa detto questo andiamoci ad aprire tutto quello che è arrivato bene ragazzi guardate un po' quanta roba c'è questa cosina che sembra imballata un pochino meglio in più un po' di bike me sa e questo non so che cazzo c'è chi se lo ricorda più sta roba è rimasta ferma un po' di mesi quindi di base potrebbe esserci qualsiasi cosa allora andiamoci a vedere se per caso c'è un panetto di droga dentro ma non credo è tanto l'unica droga che si fa caos è il max reality del mazzo di edison quindi dubito che ci sia il panetto di droga gli costerebbe troppo e andiamo a vedere a vedere già partiamo bene abbiamo una topa qua ma non ci interessa queste sono le sleeve de morpese cazzo ci devo fare c'è qualcosa dentro c'è qualcosa c'è una monetina con charizard 6.000 euro a posto se manda a guardare poi andiamo a vedere cos'altro c'è dai abbiamo qua un po' dell'art si abbiamo nel glitch macrocosmo questi questi sono carini macrocosmo l'art sono belli puliti ok questo sì sarebbe bellino trova un mostro resuscitato però dubito che mi abbia regalato così un mostro resuscitato perché non ricordo di averlo valutato quindi o è stato gentile lui o non c'è poi abbiamo eccola porca è vero io ho preso pure la roba giapponese me puzza me puzza delle ultimate brutte andiamo a vedere cioè brutte ultimate belle però sapete ragazzi in italiano potrebbero valere qual qualcosina di più è allora togliamo sta roba e andiamo a vedere cosa c'è allora partiamo qua abbiamo tengo ok richiamo oscuro assolutamente inutile chico belli qui a speed duel proprio quelli che volevo è non super dalone poi roba del gbt combattente roba inutile trisciuta questi sono carini questi euro e venti l'uno e se fanno vola tanto so da brawl so ultra son bellini andiamo col secondo abbiamo detonatore alla di drago il ratto o l'altro ratto American bella poi a lancere altro lancere un altro lancere la stele io spero sia tutta roba vabbè nm massimo ex me so fidato è prossima volta tocca non fidasse più vabbè non tutta la roba che mi ha mandato diciamo più di un occhio allora abbiamo qua la cosm girl poi vabbè mizu l'art questa l'altra l'art boh questa non ci famo niente una benta in l'art questa 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 vabbè queste ragazzi le top ovviamente sappiamo sempre se mettono nell'album che diciamo la fregna visto che vera non ce l'abbiamo ci tocca accontentacce di questo allora abbiamo inferno e patroulea in tre per poi piatti a perché c'è sta roba boh perché perché c'è tutta strava di cross di sece cosa ma te volevo montare infernoid ma il cazzo ci fai con infernoid ma non sono usciti neanche i supporti ma lascia sta o si si sono usciti i supporti infernoid lascia sta a giocare infernoid dai su continua a giocare i mazzetti edison dove il meta non cambia allora abbiamo magic deflector vabbè abbiamo un play set avramax carino vercan b carino due tre non più sovrano scuro che non capisco perché le persone si sono svegliate ieri e me ne hanno comprati venti non so che è successo boh tipo nuova carta del meta poi il libro dell'eclissi uh belle stella in c'era però i play set sbagliati ciao mi mandi i play set sbagliati e io che cazzo ci faccio ma i play set si fanno belli nm puliti tutto ma dove insegna io cioè nel momento in cui compri la carta del merda comune poi o ti fai un play set sbagliato arrivi ad un punto che non lo vuoi più lo vuoi sostituire come come quando compri le carte tedesche che lo fai per risparmiare ma poi dici ma chi cazzo me l'ha fatto fa compriamo tutto monolingue italiano max rally di prima edizione nm e così hai speso 5 poi spendi altri 4 mila euro per max al mazzo scusa è così cioè la storia di ogni giocatore dei yuki è ve lo dico che perché non ho visti tanti giocatori è nel corso mia carriera e tutti iniziano col tedesco dopo due ore si stufano e ricomprano le robe in rarità più alta e in lingue umane vabbè abbiamo un paio di let me storm in seguimento school meister sole e luna vabbè drago jet pax anche i fibra per favore me lo fai torna la prossima ma no quella dopo dai su dai che ce crediamo rivolgiamo anche lui che ce n'ho tanti che facciamo i soldi insieme dai vabbè anche i soldi visto che li stiamo beccando tutte beh cacciatore fusione deployment vabbè e niente data così diamo quel prossimo pacchettino abbiamo allora vele ora col giudizio incredibile materiale giapponese e la lila vera vabbè questa roba ragazzi questo prodotto tanto lo conosciamo l'abbiamo già aperto anche sul canale è stato bello è stato simpatico però io devo carriarle sul market quella roba e devo ridirle fuori perché mesi sono mischiate con tutto il resto vabbè andiamo avanti abbiamo questo ggx molto bello guardato come bello secret o ecco ragazzi facciamo mi faccio uno spoiler del prodotto nuovo perché tanto anche questo devo sbusticchiare o questa ggx quella ggx fratello minore era niente in data questo prossimo abbiamo natura barchion o questo questo è di un set interessante questo è di lc5 d e questo costa i soldi poi cavaliere evocatore capitano gold capitano gold vabbè le drago di vietano che erenz mi ha detto che costa un euro ma che cazzo gli è successo cioè state facendo i pari pure drago di vietano vabbè sono contento ce li ho eh ma i maghi flanfell riaccendere vabbè drago polveri stelle maligno vabbè cambia no creator swap sì c'ho un dubbio eh però mi sembra creator swap allora passiamo avanti abbiamo la roba i samurai che forse c'è shien visto che i supportini sai no a parte le condizioni mi sembrano molto molto discutibili da alcune robe però c'è posta poi da raditi ovviamente un euro e 72 compreso già di abbraccio l'unica cosa bella del suo coniglio è la versione secret quarter e il coniglio peluche e konami signori di konami se me lo volete mandare io sono qua disponibile per tutto eh però voglio quello vero non voglio quello che è uscito ultimamente voglio quello vero quello da 120 mila euro che pena quanto lo voglio eh uh bello questo quello penso che sarà l'unico peluche che se compro la mia tipa non lo vedrà neanche col binocolo forse in foto e se me lo tocca potrebbe diventare ex sì ragazzi vabbè c'ho la tipa mi spiace vi ho mentito inizio video però volevo essere solidale con chi di voi non ce l'ha perché gioca a yugi quindi dai credeteci che anche voi la trovate confido in voi è più probabile che io diventa diventi ex rispetto che voi la trovate ragazzi nel senso perché sono un pessimo fidanzato sono molto discutibile nel senso me supporta proprio perché gli faccio pena tocca tocca essere sinceri con voi tanto dopo sei anni la gente se lascia bisogna bisogna essere onesti bisogna essere onesti se mi vedrete piangere in video come ciccio gamer saprete il motivo o quello perché mi hanno rubato il mazzo di nuovo al lcs poi eh ragazzi se succede di nuovo e mi taglio la gola e stiamo a posto perché ok però nel senso adesso fammi rubà pure il mazzo che voglio portare l'evento che non sarà di nuovo traptrix me grava perché non sarà neanche antometa spoiler eh allora abbiamo deviati un altro deviati primaris primais ok un altro deviati atton del ce n'è c'è un cazzetto che costa tipo 6 euro perché non l'hanno ristampato e ancora non l'ho trovato vabbè boh carino questo carino babusca vabbè da cibro c'è può pure sta allora primo boxettino controllato e non c'era niente importante ma vabbè io ricordo più o meno quello che mi ha proposto e se c'è solo sta roba qua probabilmente domani mi vedrà sotto casa sua allora andiamo secondo boxettino lo apriamo dopo è qua ho visto roba esotica ragazzi bisogna diamogli un attimo di tempo deve cucinare deve usci qualcos'altro di interessante capiamo allora 1 2 e 3 bam anche qua vedo altri sacchettini e sa che qua un'altra po di spazzatura giapponese è ok che comunque ragazzo la roba giapponese c'è a mercato lo dice uno che c'è un botto di roba caricata e parte alla gente piace sono contento perché almeno si è da spazio anche al collezionismo e non solo al competitivo comunque belle se tre pantere nere mi ricorda quella del mercante in fiera quella tipa vestita da gatto non so se ve la ricordate più o meno ma che cazzo gli è successo a queste controllo qualità 10x incredibile belle queste 15 euro l'una ragazzi per forza trovate sul mi market a breve abbiamo poi grande convergenza buco bianco distrutto vabbè comuni super a caldo no tutte comuni ah wow la roba warrock i floodgate tra poli incredibile proprio quello che stavo aspettando dalla vita parte una coltellata allora scambiatore serpente no non c'è un drago catena di ferro eh per sbaglio eh vabbè debris super carino eh da mifi però dai dai dammi un drago catena di ferro che potrebbe essere interessante potrebbe essere carino dai dai assolutamente no impossibile caos capisco che la roba buona non me la vuoi da però dai almeno uno scammamme così sennò dopo tocca chiamare gli avvocati e non c'ho voglia allora best cristallo tigreto pazio pulito e ui necomane che ho scoperto che neco significa gatto incredibile qua c'è l'artwork di un gatto probabilmente ho detto una cazzata eh però avevo visto una roba su google e c'era scritto varie traduzioni non so in quale lingua però neco era gatto poi tipo c'era il giapponese che era se diceva in un altro modo eh i ril de instagram te danno ste cose probabilmente pure sbagliate dopo finire cioè finisco per dire guardando i ril che la terra è piatta che c'è gente che ci controlla dall'alto solite cose posto diamo avanti sperando che la situa migliori però nel senso uh due nobili uomini speed duel che non so secret wow belle no queste sono veramente belle cioè sono in giapponese ma sono veramente belle gold pulite ecco una roba che potrebbero fare da noi perché necro valle gold non esiste pure secret da bonanza spingerebbe un sacco sarebbe veramente figa come cosa vabbè io do consigli a konami che poi se mi assumere come cioè buttarmi nella sezione boh creazione tipo prodotti o marketing cioè io doppio pollice in su e lavoro eh non si preoccupi sono stacano vista su quelle cose ti faccio dei bei prodottini che la gente da casa appena li vede si fa le sega a due mani cioè stiamo parlando di cose belle falliamo in 15 minuti non credo che falliamo in 15 minuti però nel senso konami io sono qui disponibile belli draghi mascherati anche questi tipo 50 centesimi l'uno allora uh mago f proxy wow vabbè è un po' è un po' de bike a caso un mix però non è un bike bellissimo c'è qualcosina di rarity buttato qua dentro delle giare e book of eclipse o dark ruler cazzo mi serviva in italiano un ragazzo io ho detto che non ce l'avevo ho detto vabbè dai mandamene due capita avevo miscliccato e uno ho messo in inglese vabbè ben ridimensionale c'è l'ho messo in italiano ed era inglese belli i raldi arancioni o le carte in tedesco queste palesemente gliel'ho venduta io ragazzi non so se lo sapete ma tempo addietro erenz mi ha venduto tutte le carte sue e praticamente c'erano 60 kg di roba tedesca e quindi il mio market a causa di questo si sono cioè hanno iniziato a popolarsi nei vari habitat carte tedesche e quindi ogni tanto se non la trovate in italiano la trovate in tedesco e bencazzate perché dite porca troia a me serve in italiano però o ve la dovete accollare sono cose che sono cose che possono capitare uh bella questa American pulito maga alchemica roba da mamma vabbè questa roba brutta uh belline queste però ragazzi dopo che vedi l'alternativa arte tutte e due ti dici ma scusa cioè bello lab twin però quella con lo stacco di cosce così un po bellina aspetto solo che conami me la importi in italia e inizio a giocare live twin o mi seguo non so quale faccio prima questa prima mi seguo e poi capisco che live twin non è un mazzo per me quindi gioco gadget con i gadget quarter allora dna surgery bene non c'è nient'altro andiamo col prossimo dai su 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 boh sta roba dovrò smaltirla nel breve tempo dovrò buttare tutto sul market e anche in maniera molto veloce wow niente ha qualcosa di carino c'è mai imbustato anche la merda caos potete imbustare meno imbustare le roba di qualità belli teleport vabbè ma tanto ci stanno da raridi quindi un po così poi roba psico da tdgs mega sarebbe sbusta tdgs dopo tanti anni però costa costa e so povero non so se mi ferma il fatto che non si trovi o il fatto di essere povero ma credo l'essere povero influenzi molto le mie scelte sono povero ma con tante carte sono felice così diamo la mazzones ragazza arpia questa questa l'art buona godo poi palla di fumo e ok niente famo così famo così tiriamo fuori un po dei mucchietti sennò veramente divento spastico e tirando fuori uno per volte allora oh sto sicuro che con cinque secondi tiriamo fuori tanta di quella merda che non ci serve che solo dio lo sa allora ho guardato un po mi sembra di fare i god pack di degli youtuber di pokemon che dicono o mio dio god pack ho preso solo i pool di tutto il box e vediamo effettivamente cosa possiamo trovare poi alla fine su tutte carte di merda franno i due perché ovviamente il pool del box è sempre quello però nel senso facciamoci di credere che è un god pack questo bellino leo j è messo pure bene però unlimited andiamo a vedere dai crediamoci allora ho barchettino poi specchio del drago wow in coreano proprio quello che volevo ma è da un p18 per un secondo flashato da battle of legend ok bello poi curivo con l'occhiolino in tedesco poi niente niente tutte comuni perché aveva queste cose caos bello che rubini però da rari e niente non è un set vero poi vabbè il resto il resto è così cioè quel che rubini da rari di è come il dante da battle of legend cioè non esistono cioè esistono ma fai finta che non esistono cioè o lo giochi ultra da mp o lo giochi segreto da pack basta non esistono al terreno che rubini sì 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 così dante segreto in entrambe le versioni o da team o da pack e basta poi quest'altro non esiste allora vediamo qua ancora niente uu carino per un secondo flashato del termine almeno non è del termine vabbè poi loto di samsara che ragazzi quest'anno è stata la brandizzazione la rebrandizzazione di phantom nightmare no vabbè di ptdn infini no infini che phantom nightmare e praticamente hanno fatto diventa meta quella roba vabbè gg poi per il resto da flood vabbè basta e niente per il resto è spazzatura quindi se dentro il il pacco magico e questo non c'è roba interessante è finita ragazzi è finita domani prendo il treno e vado a trovare caos allora partiamo dal pacchettino magico che secondo me può dare gioia se c'è un bigliettino che ho scritto non ti voglio bene come becca un vaffanculo enorme porca troia un vittini jumbo un di alge pal che leggenda jumbo c'è roba che ha visto un po fatto la guerra però che chai zard e brixen ma se posso gradà sta roba chai zard gx questo questo è questo vabbè piccoli errori di gioventù di caos e adesso andiamo con l'ultimo boxtino che dovrebbe contenere qualcosa di interessante partiamo con questa abbiamo una bellissima ragazza maganera dall'art la sento molto pesante quindi mi sa che ha messo più roba insieme un animale praticamente con doppia sliver va bene abbiamo qua una dark magician girl in versione cavaliere da dlcs è ok passiamo alla prossima abbiamo questa incredibile regina mazzones che comunque costa perché ha un'unica reprint che con la speed 2 ma fa schifo e dall'altra parte abbiamo un drago totem altra carta per edison per il mazzo drago vabbè poi prossima carta che andremo a vedere questa mano dei sei samurai che non so se è leggermente salita per tipo edison sì edison per i supporti sei samurai dubito perché non se l'è mai inculata nessuno però ok condizioni excellent cioè back excellent il front è abbastanza pulito a limited sfortunatamente vabbè me lo posso accollare è comunque una bella carta eh se la trovate a poco prendetela perché veramente figa allora uh e una luce consacrata questa è buona questa contro il mazzo di oscurità questa mi serviva per dcs allora prossimo abbiamo neftis oscura e mamma mia seconda neftis oscura tutte e due in prima edizione sì e non è uno scherzo non c'è trucco non c'è inganno eh ho due eh guardate oh no è che so io che so velocissimo eh poi abbiamo oh il doggo di fuoco mamma mia incredibile incredibile è sempre la stessa e la giro in continuazione abbiamo il doggo di fuoco e un'altra neftis sempre in prima edizione non non controllo le condizioni se no rischio veramente che me incazzo però dai controlliamo questa per sicurezza poi per il resto andiamo a fiducia dai eh bec ex beh beh devo considerare tutto in embe sulla fiducia però ok poi abbiamo qua un altro doggo di fuoco e il terzo doggo di fuoco tutti e tre in american eh belli potenti belli carini non so quanto stanno poi abbiamo oh un long fire blossom in quarter poi secondo back to back che dovrei avercene uno ma non so se in italiano o in inglese abbiamo il playset nel caso poi vabbè eh sti discendenti me sa dietro ce n'è un altro sicuramente e eh condizioni non so ottimali ma tanto ragazzi sono tutte le carte delle chipsilon w tutte le carte della legendary collection sono fragilissime quindi ci può stare che abbia dei difetti eh infatti sono due questo è messo un pochino meglio ma del silvering in alto comunque ce l'ha poi abbiamo uh il comandante ma questi sono american cazzo è uno o due? sono due e sono tutte e due american ah ma quanto sono belli questo questo ultimate per quanto un ultimate costa una cifra infinita è veramente bello se lo trovate anche rovinato a poco piatelo perché è una carta incredibile da mettere in collezione vabbè poi abbiamo un recruiter american un altro recruiter american e un altro recruiter american insieme dietro ha una carta ultimate che andremo ovviamente a controllare perché è una ultimate ed è psico cinesi allora ha anche questa unlimited perché ovviamente è povero c'ha qualche puntino bianco però comunque tutta roba messa alquanto bene eh chiudiamo ancora la roba cicciotta non è uscita allora abbiamo ho un assalitore non mi ricordo come si chiama vabbè sto custodi tombe e poi anche questo che è uguale tutte e due american e poi caos mi ha detto eh io lo comprate poi il proprio mazzo non mi piace allora che cazzo le compri a fa ma testalo prima al mazzo cioè che butti i soldi cioè io so contento che me l'hai venduta a me però se potevi risparmiare un pochino vabbè abbiamo un tributo reale questa carta è incredibile se controllo necro valle entrambi i giocatori scartano tutti i mostri nella loro mano bella e ne abbiamo due ok poi abbiamo questa bacchetta miracolosa che probabilmente è un set di bacchette miracolose e quindi non si chiamerebbe più bacchetta ma saranno bacchette in condizioni alquanto boh discutibili vabbè oh inizia a salire un po' di ciccia guardate un po' ecco qua il doom caliber ultra raro da turbo pack io spero che questo sia perfetto perché se no ovviamente no è c'ha tutti gli angoli sbeccati c'ha caos anche meno eh un pochino più attento quando compri le carte allora vabbè doom caliber da turbo pack comunque ce sta nel senso è carino poi prossima carta abbiamo la chimera pelliccia spavento ultimate questa qui spero almeno sia in condizioni accettabili perché è una ultimate di core il cross è questa è piccola bottigina sull'angolo eh però comunque c'è posto sta è simpatica andiamo avanti abbiamo una ultimate di una carta che di base è meno interessante rispetto a prima però comunque bel drago tridente ultimate da rgbt in giapponese che fai non lo prendi eh forza te che bello ma nm meno dai su e sicuramente costa meno rispetto all'italiano poi abbiamo altra carta interessante non ricordo se dovrebbe essere aclinos fuchizarus c'ho un vuoto in memoria vabbè ultimate che questo da noi usciva da turbo pack da loro usciva da espansione che culo e niente ragazzi quanto è bello che poi non da turbo pack da astral pack nei turbo pack non c'erano ancora le ultimate e te dirò vabbè no è possibile negli astral pack non mi ricordo però usciva ultimate nel senso in uno dei pack da torneo poi vabbè abbiamo questo questo boh essere con la coda che non capisco se dovrebbe essere una ragazza e nel caso assechiava comunque poi neos dell'arcobaleno guardate che bello da noi ultimate non è mai uscito è uscito solo secret e ghost se non ricordo male sì guardate che carino c'è no non c'è niente dietro poi abbiamo cyber etolie mi sembra anche questa ultimate giapponese poi controlliamo anche quello per sicurezza nel senso per non dover tirare fuori niente e non andarlo a trovare vabbè condizioni condizioni buone comunque dietro è pulito guardate un po guardate un po che pulizia è la roba giapponese ragazzi è così nel senso le trattano bene le carte non come noi che dopo boh una mescolata l'abbiamo già distrutte distruggiamo le sleeve e poi le carte dentro bello 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 c'è un puntino in un angolo però guardate che carino andiamo avanti abbiamo una fusione neos e un'altra carta che è vabbè questa penso che non mi serve neanche analizzarla e questa vabbè carina ragazzi quella è la proprio brutta carta che si gioca in pendolo e solo questo basta per schipparla allora è a posto questo anche questo è messo bene poi prossima carta questo è questo è bello la fusione tra ufora e lucente è impossibile no tra ufora e come ricordo ragazzi c'ho memoria devastata da devastata e basta non c'è una vera motivazione il nome drogo e quindi non posso dire che sto devastato dalla droga però che bello queste sono proprio belle carte questo mi sa che va in collezione stica non si vende tutta mia oh uh torniamo a delle carte italiane allora abbiamo vabbè l'atium che vabbè questo è american va bene e una gialla dell'avarizia secret che ce sta sembra messa anche abbastanza bene non c'è il silvering poi uno no è un detonatore alla di raguas piegarlo non mi sembra la mossa più intelligente di questo mondo soprattutto perché costa un po' questo è un po' un ex un po' bruttino però comunque in prima eh rgbt set incredibile carta interessante condizioni un po' meno poi oh no andiamo con la corazzata Kodioski questa è salita ragazzi questa è salita e fortuna hanno ristampato in speed duel però ragazzi versione ultimate è versione ultimate nel senso e che stiamo a parlare c'è un puntino solo bianco nel complesso è veramente carina considerate che questa non se l'è mai inculata nessuno stava a un euro proprio perché la gente la voleva lanciare perché non la voleva più nell'album adesso sta tipo a 40 va bene allora abbiamo un dark horus in due versioni abbiamo quella american che comunque vale dei soldi e poi quella non american che è in giapponese e vale un po' meno soldi cose che capitano vabbè questa è in prima edizione pure questa ne frega un cazzo torniamo a quella bella quella american oh no eh questo c'ha avuto una botta in fronte questo gli hanno dato una scappellata guardate un po' vabbè per il resto le condizioni sembrano buone sì come cazzo hai fatto a danneggiarla qui adesso non credo sia stato caos però nel senso il vecchio proprietario un po' un testa di cazzo eh andiamo avanti penso con una delle mie carte preferite dark world ultimate questa c'ha anche la misprint che tipo è blu costa un po' allora le condizioni sul front vabbè sono pazzesche io ho paura di girarlo allora ha qualche puntino a su in alto ma nel complesso è boh tenuto in maniera incredibile quindi io lo slivo subito rimettiamola da boh sleeve rimettiamolo anche in top loader e buah che non voglio danneggiarlo poi in prima edizione in inglese proprio come piace a me per concludere abbiamo una cosa incredibile bam un bel playset di light and darkness dragon da ig01 e quello più bello va in collezione per forza io adoro le promo queste erano promozionali se non ricordo male allora questo c'ha un cazzetto lassù in alto e però il back è abbastanza pulito e ok poi andiamo col secondo e il primo non mi soddisfa ovviamente io voglio bello pulito in tonso come se fosse appena uscito dal blister ok ma ma c'ha una print line in mezzo che veramente c'ha un solco manco fosse fatto con la zappa per il resto il resto è bello senso non ha difetti cos'è questo? ah beh è sporco sono carte vecchie ci può stare che c'ha per un po' di sporco quello alla fine si risolve esistono i restauratori ormai non restaurano più i quadri restaurano le carte di pokemon e di uvi quindi buona e questo è il terzo che stessa print line vabbè è uno dei due allora andrà in collezione guardate qua è un po' di roba incredibile bello anche questo c'ha qualche cazzetto di sporco però oh ce posso stare uno dei due vabbè lo butto in collezione deciso basta adesso capiamo un attimo mettiamo dentro questo mettiamo dentro questo stato ci penso dopo ovviamente e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente quella vostra carta preferita di tutte quelle che ho tirato fuori e ovviamente se vi serve qualcosa perché nel caso le trovate a breve tutte sul mio carmarket quindi nel caso passatevi il link lo trovate qua sotto in descrizione vi rinnovo l'invito di nuovo a lasciare un like perché il like è importante il like il like è come cioè è come come un paragone con il like il like è come quando da monoboost è cioè tornate incisore voi siete contenti e io so contento quando lasciate il like e mettete il commento detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo domani si incredibile anche domani un nuovo contenuto con un nuovo video ciao a tutti